Ciao, sono Giorgia e vorrei darti il benvenuto nel nostro nuovo programma. Stiamo parlando del Six Week Transformation Challenge, un programma che cambierà il tuo fisico e il tuo stile di vita. Tu penserai, ehi ma questo è CrossFit e io non voglio fare tutta quella fatica. E invece no, CrossFit è per tutti. Inoltre abbiamo un programma di nutrizione che ti aiuterà a velocizzare il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Siamo così sicuri che il programma funzioni, che se nelle sei settimane non avrai raggiunto gli obiettivi che ti sei prefissata con il tuo coach, ti restituiamo tutto quello che hai speso. Non c'è nessun altro che lo fa, vero? No. 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 No.